se guarda orario e date anche alle parole di Petkovic rispondo a questa domanda che non è direttamente originale all'aspetto del confronto delle due squadre ma credo che sia di ordine pubblico credo che sia di natura sociale e sono d'accordo con Petkovic perché quello è non è una novità che poteva succedere e se noi non siamo capaci o ci riteniamo incapaci di rendere un giorno memorabile per tutta la città di Roma quello che può essere il giorno della finale se non siamo capaci di sostenere perdiamo l'occasione grande dipende sicuramente non dipende sicuramente da quello che compete alle due società penso che sarà un'occasione ripetibile planetaria interesse planetario come l'ha definito qualcuno ieri come l'hanno definita 8 anni che io vedo d'erni dall'interno da dentro non ho mai non ho ricordo di un incidente che è successo dentro lo Stato mai successo possiamo no io dal 2005 poi è successo dal 2005 dentro no è vero è vero è vero valeo il tempo di Ranieri c'è la Ranieri forse no c'è la spalletta non ho ricordo non ho ricordo allora no va bene non ho ricordo di questo stavo concentrato sulla gamba la della vita e comunque sia il problema è l'ordine pubblica che va dall'esterno io credo che chi sta chi sta filando le lame non è che oppure come ho detto l'altro giorno uno se l'avete portato via da casa l'ascia hanno hanno ripirato hanno sequestrato un'ascia che ci vuoi fare puoi giocare anche la mattina alle 7 non cambia niente di quello porterà sempre l'ascia e magari porterà anche qualcosa di più interessante ma chi affila le lame le può affilare a Ponte Mirbio dall'altra parte di Ponte Mirbio o dove vuole che ci vuoi fare quella è una versione che la città di Roma non deve perdere quella di dimostrare al mondo perché saremo sotto gli occhi di tutti che razza tipo è quello romano per tanto è il Washington suono a Ponte Mirbio